Schiaaa! È il momento del vecchio trucco di Twink! Yaa! Au! Au! E che cavolo signorina? Perché mi hai morso? Fai davvero male con quel grosso becco da pappagallo! Perché hai appena provato ad uccidermi? Aaaaaaah... Giusto... Beh, lasciami! No! Io ho provato artigli dal mio collo! Prima lascia andare il mio braccio! Prima hai trovato gli artigli dal mio collo! Braccio! Artigli? Credo che posso restare così per tutto il giorno! Braccio! Tu hai bisogno del tuo braccio e io del mio collo! Io ho bisogno dei miei artigli quanto tu hai bisogno del tuo collo! Voglio dire, se perderei un braccio, assomiglierei un sacco a un grosso pollo gigante di mia conoscenza! E tu non vuoi questo, vero? Quindi lasciami andare ora! Perché ti stai comportando come se io fossi nel torto? Sei tu che hai provato ad uccidermi? Le varie artigli... Aspetta... Credo che siano finiti nelle sabbie mobili! Oh no! Hai ragione! Ok, non va affatto bene! Niente panico! Su, spiegati! Se hai levato artigli faremo ancora in tempo a scappare! Ok, ok! Beh, che cosa aspetti? Prima però lascia andare il mio braccio! Ma sei serio? Artigli! Braccio! Orpigli! Braccio! Orpigli! Braccio! 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 Ragazzi! Aiuto! Siamo bloccati sotto le sabbie mobili! Non che mi importi tanto di questo teceporco, ma... Aiutatemi! La famosa battaglia tra dinosauri della Mongolia che mostra un veloci raptor e un protoceratopo che ingaggiano un combattimento. Ciò divenne soggetto di molte analisi, di molte speculazioni, in modo tale da scoprire perché siano morti e perché si siano preservati in tale posizione. Ciao a tutti ragazzi, volevo ringraziare Audrey Stubb per avermi aiutato in questo doppiaggio. Commentate, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi!